Santo Mazzullo, fresco fresco di nomina sulla panchina dell'Isernia, in mattinata la prima seduta, come è andata? È andata bene, sono arrivato ieri sera, stamattina abbiamo fatto primo allenamento, ho visto le condizioni generali della squadra, a livello fisico, a livello tattico, si deve lavorare tanto, però sono venuto qui per far bene, quindi sono molto fiducioso. E' eredita una situazione al limite del disastro, la classifica è inutile che la nominiamo, i risultati solvoliamo anche su quelli, insomma come intende lavorare da oggi in poi? Secondo me adesso guardare la classifica dopo quattro giornate è deleterio, sì è vero sono state fatte quattro sconfitte su quattro partite e zero punti, E' zero gol, però penso che da quello che ho visto stamattina penso che la squadra ha tanti ampi margini di miglioramento, quindi sono fiducioso, ripeto sono venuto qui per lavorare, per far bene e soprattutto per tirar fuori l'Isernia da questa situazione. Ecco sicuramente c'è bisogno di qualcuno che venga ad aiutare la causa Isernina, come vi state muovendo? Anche perché insomma lei se l'è ritrovata questa squadra, non so magari qualcuno lo conosceva, qualcun altro no, come vi muoverete in quest'ambito? Nel senso che oggi pomeriggio una riunione con la società, vediamo un attimino di vagliare quello che manca, perché già dopo un allenamento penso che ho visto qualcosa, però adesso devo valutare domani perché domani abbiamo una partita fra di noi e giochiamo tutti in modo che vedo le condizioni tecniche e tattiche della squadra, sicuramente faremo arrivare qualcuno, non c'è problema per questo senso. Ecco abbiamo un po' insomma testato la situazione della squadra, ora se ci parla un po' di lei, le sue progresse esperienze, insomma da dove viene e il resto? Sono allenatore, vengo da Catania, nasco come allenatore da scuola calcio di Davide Baiocco e Andrea Sottil, penso che tutti conosciamo, questi giocatori della Juventus e del Torino, poi con la loro scuola calcio ho vinto un campionato allievi e giovanissimi, poi ho fatto l'allenatore nella Juniores del Tre Castagni, un paesino della mia città e ho vinto il campionato, e poi sono stato due anni che lavoro in Umbria, città di Castello, posso vincere in Toscana, San Suovino, quest'anno avevo iniziato ad allenare l'Icata in Sicilia in Serie D, però poi i problemi societari con il direttore sportivo hanno fatto sì che mi sono allontanato e adesso ieri è arrivata questa chiamata e sono stato felice di arrivare qui a Disernia.